Siamo in diretta, c'è Pinuccia Cogliardi che è segretario generale spicigi all'elecco. Siamo fuori da Teatro Invito dove appunto all'interno della sala si sta tenendo una premiazione molto particolare, la premiazione di liberetà per alcune categorie di giochi dedicati a over 55 lecchesi, organizzato dal sindacato dei pensionati della CGL. Allora chiediamo a Pinuccia Cogliardi di raccontarci un po' questa iniziativa e anche un po' la giornata di oggi. Allora i giochi di liberetà sono nati come idea dallo SPI regionale, quindi sindacato CGL SPI, e poi sono arrivati in tutti i territori, l'eco compresa, e sono una possibilità per gli anziani di mettersi in gioco. possono partecipare a un concorso di burraco, una sfida di burraco, piuttosto che a un concorso di ballo, e dentro queste varie iniziative, c'è pure il concorso per la sfida tennis, ci sono anche l'aspetto più culturale. L'aspetto più culturale storicamente ha sempre compreso un concorso di fotografia, di pittura, di racconto breve e di poesia. Quest'anno chiaramente tutto è stato molto difficile, però noi a l'eco siamo stati un po' caparbi e abbiamo deciso di non far tutto, evidentemente perché molto non è stato possibile fare, ma di fare comunque qualcosa. Ecco, fotografia, stavamo vedendo che addirittura venivano proiettate le foto appunto scattate dai partecipanti. Sì, uno dei giurati tra l'altro Luigi Erba, un fotografo diciamo molto premiato anche della zona. Ecco, un'edizione, l'abbiamo detto, chiaramente ridotta per un motivo che è quello che conosciamo tutti, ossia quello del Covid, che cosa avete dovuto cambiare rispetto alle altre edizioni, se possiamo saperlo. Eh sì, abbiamo dovuto cambiare, ma abbiamo anche aggiunto qualcosa. Abbiamo dovuto evidentemente eliminare la mostra e quindi tutto l'aspetto anche che riguardava i pittori. Erano numerosi i pittori che partecipavano e la fotografia è stata trasformata. Abbiamo trasformato la foto appesa in una foto su DVD che è stata proiettata. Per fortuna, l'eco abbiamo sempre deciso di tenere questa esperienza attraverso un'edizione di un libro e quindi abbiamo potuto da una parte mantenere le pubblicazioni e dall'altra arricchirle anche con il DVD delle foto. Tutto questo è possibile perché ci lavoriamo in molti, a cominciare dalla giuria. Lei ha citato Luigi Erba, io cito anche Raffaele Bonuomo per la fotografia, Casto Pattarini e Marco Rota per l'aspetto più letterario e storicamente anche chi si occupava di pittura. E poi abbiamo un grande aiuto che è Giovanni Torri che anche quest'anno ha lavorato sia per quanto riguarda le foto trasformate in un DVD sia per quanto riguarda il libro, la nostra edizione che ormai è la quarta. Ecco, quanti partecipanti hanno queste iniziative quest'anno? C'è stato comunque seguito anche a fronte della situazione che ben tutti conosciamo. Allora, all'iniziativa in generale partecipa veramente tantissima gente. Per quanto riguarda l'aspetto più, diciamo, culturale, abbiamo sempre avuto una risposta immagini che l'anno scorso, fate bene fratelli, la sala espositiva era stracolma di foto e di quadri. Quindi parliamo di un buon centinaio di over 55 che si mettono in gioco attraverso la pittura, la fotografia, la scrittura. Chiaramente quest'anno abbiamo dovuto rinunciare a tante cose, ma abbiamo aggiunto due aspetti e ci spiacciono molto. Uno, l'essere entrati in un RSA e avere aperto questo concorso agli ospiti dell'RSA. L'RSA quest'anno sotto... Certo, allora per tutti quest'anno è stato un momento di grande ansia e noi siamo convinti che questi momenti aiutano a creare una socialità, ma anche a elaborare a volte le ansie personali e a mettersi in gioco con le proprie attitudini e la propria voglia di fare. E a maggior ragione quest'anno, tanto è vero che nel libretto c'è tutta una sezione che non è a concorso, che ha raccolto gli scritti che le persone, chiuse in casa, durante il momento più nero del Covid, ci hanno mandato. Era un modo per stare, un modo per essere un sindacato che si prende cura delle persone. In quel momento avevano bisogno di esprimersi e noi abbiamo raccolto i loro scritti. E nel libretto c'è tutta quella sezione. Leggendo le parole si trova tutta l'ansia, ma anche la forza di un gruppo che riesce pur a distanza ad essere coeso e a sfidare questo grande problema che è tuttora il Covid. Ecco, io andrei in silenzio con il suo aiuto a dare, prima di chiudere la diretta, una sbirciatina alla sala. Ecco, se possiamo entrare... Rigorosamente tutti a distanza. Certo, certo, anche in sala chiaramente viene rispettato il distanziamento sociale. Allora noi entriamo qui negli spazi del teatro invito, gli spazi del teatro invito. Ed ecco la sala. Ha appena finito di parlare Luigi Erba e si passa al settore di prosa. Come vedete appare un leggio. Non sarebbe stato possibile tutto questo senza il grande lavoro di Luigi Valzecchi, la nostra segretaria che si occupa degli aspetti dell'invecchiamento attivo. E non solo. Perfetto, allora noi andiamo in chiusura, uscendo dalla sala per non disturbare ulteriormente. Ringraziamo Pinuccia Cogliardi e anche tutti i membri di Spazio del Teatro Invito. Ringraziamo Pinuccia Cogliardi e anche tutti i nostri membri di Spazio del Teatro Domitenio.